A Borgo Tossignano c'è una golosa novità. Domenica 27 maggio il Barcafetteria Centrale inaugura la gelateria e creperia artigianale. Venite a trovarci per un assaggio gratuito dalle ore 14.30 alle 15.30. Scoprirete mille fantastici gusti anche per celiaci. E per i bambini gelato è gratis tutto il giorno. Il Barcafetteria Centrale vi aspetta domenica 27 maggio dalle ore 14 alle ore 19 a Borgo Tossignano in Viale Marconi 17. Anche con giardino esterno, con servizio al tavolo e musica live. Non mancate!